Ma Micalo che è il primo a intervenire sul pallone, prova a scambiare con Mignogna sul settore di destra, mi sovrappone Micalo, Mignogna porta in avanti il pallone, lo dà a Mancini che ha un corto corridoio, prova a sfruttarlo, De Florio viene servito di prima per Bussi da questi a De Viguori, che alza lo sguardo, fa partire una traversone sul quale c'è Di Domenico, De Florio il tiro a gol! 2 a 0 e vai, 2 a 0, ha raddoppiato il Cobra, ha raddoppiato il Cobra, il Cobra ti ha smentito già, il Cobra ha smentito tutti, il Cobra ha smentito tutti, 2 a 0, 2 a 0, ha segnato De Florio, è venuto Giulio Iacomone, è venuto Giulio Iacomone, 2 a 0 con De Florio, che piacere essere smentiti da Cobra!